Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Mamma, domani mi porto il pasto da casa. È questo il nome della proposta del Movimento 5 Stelle Lombardia che nel pomeriggio di ieri e di oggi ha raccolto le firme perché si è consentita l'introduzione del pasto da casa in alternativa a quello offerto dal servizio di ristorazione scolastica. Riteniamo che questa iniziativa sia importante perché molti genitori hanno presentato molte lamentele per quanto riguarda la qualità del servizio offerto dalla mensa. oltre all'alto costo. Quindi questa iniziativa riteniamo sia importante perché il pranzo da casa innanzitutto è economico rispetto all'alto costo del servizio di mensa. perché non è vietato, tant'è che addirittura la Costituzione stabilisce il diritto a scelte alimentari autonome e poi perché appunto consentirebbe alle famiglie di evitare dei disagi. Infatti sta aumentando addirittura il numero di bambini che escono da scuola per pranzare a casa. Non esiste nessuna normativa nazionale o europea che vieti il consumo dei pasti portati da casa mentre l'ASL può limitarsi a suggerire gli alimenti consigliati o sconsigliati. Nonostante questo nelle scuole dove manca la mensa e vengono erogati i pasti della società di ristorazione è vietata l'introduzione di alimenti esterni. L'unico divieto riguarda l'introduzione di pasti che arrivano dall'esterno questo perché per tutelare la società di ristorazione da eventuali contaminazioni esterne. Però sarebbe quindi sufficiente predisporre degli spazi separati quindi spazi separati per chi appunto consuma il pasto portato da casa e chi invece consuma quello della mensa. Un'iniziativa che arriva in seguito alle lamentele di molti genitori. Abbiamo ricevuto molte lamentele proprio relativamente alla qualità del cibo servito in mensa. Movimento 5 Stelle non si limiterà ad occuparsi dell'introduzione del pasto portato da casa. L'idea è quella di studiare delle soluzioni per migliorare il cibo servito nelle mense scolastiche. Studieremo i vari casi, i casi delle diverse scuole e proporremo sicuramente delle alternative in modo particolare vedremo di studiare alternative anche relativamente ai menù. La non eccellente qualità del cibo spesso i bambini in mensa rimangono digiuni e quindi questo non va bene. Riguarda le scuole che non sono datate di cucina, che non hanno la cucina interna e quindi il cibo comunque arriva da fuori e poi viene servito in sala mensa. Quindi essenzialmente le scuole elementari perché ci sono alcune scuole, specialmente gli asili come il Gobetti, come l'asilo Palli, che hanno la mensa interna per cui il problema, il cibo è di buona qualità insomma. Dopo la raccolta firme di ieri davanti alla scuola Dante Lighieri e quella di oggi nei pressi della Provenza, l'iniziativa proseguirà anche la settimana prossima. Il primo dicembre saremo davanti alla scuola di Amicis e il 3 invece fuori dall'asilo di Viale Carlo Mars.